ciao a tutti allora mozzarelli show bello 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 bel spettacolo un bel show una bella piazzalada proprio fatta bene era organizzata bene non manca niente che anche i cessi gli erano i miei problemi gli schemi manca mia lì allora per carità a me mi fa piacere che Valentino Rossi vinse il mondiale del moto mi fa anche piacere che l'ha vinto qua qua non abbiamo prendere dubbio se l'è sta brava insomma l'ha vinta però ecco il rally non è questo vero il pilota che vuoi cominciare a fare rally e andare a vedere Monza che non sta a me a pensare che il rally sia questo il rally è un'altra cosa il rally ti catti le prove speciali strette le prove speciali larghe in salita in discesa ti trovi busa ballamenti dossi ti trovi sporco neve ghiaccio ti trovi terra ti trovi asfalto trovi un po' di tutto nel senso il rally è un'altra roba ecco dunque chi volesse anche avvicinarsi al rally non sta a me andare a guardare Monza meno che voglio mio proprio perché non c'entra che fai con rally mi sono appassionato dei rally e di conseguenza Monza lo voglio anche a vederlo proprio perché non c'è senso senza contare che ecco questo quale è un evento praticamente dedicato a Valentino Rossi da quel che vedo perché le anni che le monopolizza e le anni che il parco vuoi affare che lo vince a tutti i costi lui le vince anche perché riesce a vincere allora non è che per carità in passato lo abbattu anche dei bei campioni dopo l'anno passato fuori anche che era un po' sporco stanno non sai ma mia perché lì alla fine è uno show chi è che va a vedere se la macchina è un elemento sporco comunque dai fa niente fa niente e di conseguenza uno che è un butelotto che volesse andare a praticare la pratica del rally va per la prima volta a Monza e vede questa roba qua che è una macchina irraggiungibile per il comune mortale cioè qua o devi andare a Monza o non devi andare a Monza semplicemente ecco o se no bisogna andare fuori le schede della stagione per andare a Monza a correre perché mi sembra iscrizioni tra mila euro e roba del genere macchine che come avete visto la più piccola le R5 e R4 dunque roba irraggiungibile per i di più per i di più è irraggiungibile ecco qua l'è solo una questione dei budget e dei soldi non è più una questione di bravura infatti quando mi ha messa in luce la bravura del pilota mi ha messa in luce chi più ne ha più ne metta ecco dunque il pilota che l'arriva lì e dice che bello non è muovere di Monza l'arriva lì e a un certo punto ha un sogno di cominciare a correre e l'arriva lì che casca i coglioni perché giustamente quelli non le mie a rally se dopo il peso magari che il rally sia così non è un'altra roba ecco mi impressiona più a sé quei piloti che con un A5, un A6, una macchina piccolina e arriva lì a battersi con quelle grosse quindi sì che mi piace ma andare a vedere un rally dove l'è una sfida a cicata qui più grosso sinceramente la rally è i miei coglioni ecco mi che i rally qua non voglio neanche vederli li seguo neanche perché Monza proprio dal rally non ha niente ecco diciamo che il GAPI a sé potrebbe essere una piazzalata per conto mio ecco per me la reputo così infatti non lo seguo neanche perché proprio è un evento che secondo me non ha senso non ha senso cioè volemo rilanciare i rally ma noi altri puntiamo a rilanciare i rally ma qua le con medarga è uno che caga era cioè nel senso il rally l'è fatto insisto a dirlo perché il rally l'è fatto dai piccoli da quelli che vuoi cominciare a correre da quelli che correre da quelli che mette dell'impegno negli anni che porta avanti questa passione l'è fatto da tutta altra gente di quel che le sto elenco iscritti qua era capimose perché qua si che gente per carità che che piloti che fior dei piloti comunque era chi fa anche i vari campionati in giro però alla fine andre lì e il piacere non c'era che c'era perché tutti quelli che andano a vedere Mosa o i fans di Valentino erano anche quelli che piace a rally vero però andare lì e vedersi cioè le sminuire quelle che le rally più che dare importanza se volemmo dare importanza a rally bisogna che volere a vederlo adesso questo Valentino era a fare a fare un rally un rally vero no un rally come questo cioè se lei è così da bravo che sputano tutti quanti i rallyisti perché a guardare classifica la sputano tutti vero che deve fare un rally che deve fare Sardegna che deve fare una gara vera una con quei coglioni così in una gara stavaccata qua stavaccata qua stavaccata qua ti vedi benissimo che c'era la macchina mia la tutta mia la casca mia le scarpe mia e c'era più sponsor di Drio vince cioè è evidente la cosa e dunque allora mi visto che lei è così bravo mi piace allora perché lo seguo anche quando fa il moto mondiale e va forte anzi mi dispiace che non abbia tu lì in spagnolo alla fine però ecco il rally è un'altra roba è un'altra roba è inutile che stiamo qua a discutere insistere a pensare che si possa fare ecco per conto mio per conto mio il rally di Monza per carità se lei fa vedere che c'è da spendere skate facilo pure ma dire che sia un'immagine per rally quello proprio non lo direi a mio perché perché ecco te che cavi i sogni ai giovani che hai in mente di cominciare a correre almeno che questi giovani sia pieni di skate allora è un'altra questione allora puoi andare insomma e puoi fare con chi vuoi ecco basta a me su Monza non era nemmeno tanto da aggiungere non era altro da aggiungere però ecco ricordive ben cari giovani che avevi in mente da cominciare a correre il rally non è questo rally l'è un'altra cosa rally l'è per gente quel co***o così ecco dopo di che dopo di che se voglio che vi dica so chi ha fatto l'estrazione qua del dovrà aver fatto l'estrazione della lotteria qua del due valli qualcuno sa chi ha vinto perché non più sentivo niente dovrà pubblicare qualche parte i numeri che ha vinto non si sa niente vabbè comunque ecco a parte questo che era una piccola virgola perché a me intanto bisogna anche puntualizzare anche quello che succede a Verona ecco ormai la stagione è quasi finita adesso ne resta ancora almeno per noi altri ne resta ancora un par di gare master show lì a ronde di mille che per carità non nemmeno già nemmeno però se non altro che i piloti che vogliono confrontarsi e vederci gare l'usel più lungo non c'è più grosso ecco e allora mi sarò lì in queste gare qua adesso probabilmente mi piacerebbe essere master show però purtroppo mi toccare mi toccare andare al ronde di mille fai niente dai fai niente insomma master show ormai l'ho seguito da anni l'ho anche fatto poche volte va bene ecco e dopo se voglio che vi dica non mi ha tanto altro da aggiungere niente mi adesso si senteremo dopo i prossimi due rally e dopo tornaremo la stagione nuova magari se mi aveva in mente di dire qualcosa durante fine anno ho scoperto se serve se serve dove è la fine anno sta qua sta qua sta qua sta qua ho scoperto se la serve che l'aveva che l'aveva stamattina diciamo che era tutto ingiassato l'ha partito il vero se vede a fuori niente la va da dio la va da dio la costa ma la va da dio veramente sono contento perché ho visto che la manetta ben vero dal giasso dunque sappiate che si può anche fare altri usi ecco signori me vi ringrazio e ciao a tutti va buon ciao